Il piano metropolitano, una strategia sostenibile per lo sviluppo integrato del territorio. E' stato questo il tema oggetto del convegno organizzato dalla città metropolitana nell'ambito di EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo, che giunta alla sua non edizione si è tenuta alla mostra d'oltremare di Napoli dal 31 marzo al 2 aprile. L'incontro ha costituito l'occasione per fare il punto sul rapporto tra la città metropolitana e i comuni che la compongono e le energie rinnovabili sul loro utilizzo e sulle potenzialità che questo settore è oggi in grado di esprimere, a partire dall'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e sulle altre strutture pubbliche presenti sul territorio. Le potenzialità sono enormi, noi siamo costretti continuamente a portare avanti adempimenti normativi sul nostro patrimonio e quindi avere la possibilità di utilizzare leggi e quindi finanziamenti che partano dai fondi europei o proprio da leggi statali è importantissimo, perché non solo noi andiamo a mettere a norma e quindi a seguire i valori dell'efficienza energetica per un risparmio energetico, ma nello stesso tempo abbiamo anche l'occasione di fare una manutenzione straordinaria ai nostri immobili e quindi anche valorizzarli. Io proporrò anche un ufficio particolare della città metropolitana, perché credo a prescindere dagli equilibri politici che ci deve essere una parte dell'amministrazione, in particolare la progettazione, quindi gli uffici tecnici, che lavorano per utilizzare queste leggi, perché più delle volte sono occasioni mancate. All'incontro sono stati infatti invitati i sindaci, gli amministratori dei comuni della città metropolitana, proprio per approfondire gli aspetti tecnici delle procedure che possono condurre a intercettare i finanziamenti previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, partendo tuttavia dalla definizione del piano strategico metropolitano, che, come ha spiegato il capo di gabinetto dell'ente di piazza Matteotti, Giuseppe Cozzolino, deve tracciare, al termine di un percorso partecipato e condiviso con gli enti locali, le linee di sviluppo dell'intera area, ridefinendo le politiche ambientali, della gestione integrata dei rifiuti, della mobilità sostenibile, della riqualificazione urbana, facendo diventare la città metropolitana un polo di eccellenza in termini di sviluppo sociale ed economico. I contenuti e gli obiettivi del Paes, il piano d'azione per l'energia sostenibile, ovvero 100 comuni e imprese per il nuovo conto termico, sono stati illustrati da Michele Macaluso, direttore di Anea, mentre il compito di esporre sotto il profilo tecnico le modalità per l'erogazione degli incentivi per le rinnovabili è stato affidato a Filippo Marcelli di GSE, il gestore dei servizi energetici.